Scusi, vedi pistacchi? Pardon? Pistacchi, vuoi? No, grazie. Sono molto nutrienti. Grazie, come se avessi accettato. Lo conosci? E? Il teo con tu? Ah, no. Neanche io. Però mi hanno detto che aveva superato gli 80. È la buona intà per andarsene. Non lo so. A 65 è troppo presto. A 80 praticamente, sei già dall'altra parte. Vuoi un managgio? No, grazie. Tu non mangi quanto è? No, è che vorrei rovinarmi il pranzo. Anzi, tra poco io dovrei andare. Vai spesso ai monelati? Anzi, mi diverto. Qua inizia e finisce tutto, no? Nasci da morte. L'inizio della fine. La fine dell'inizio. È tutto un cervello che agisce. Come ti chiami? Arnaldo. Io sono la conchessa Matin. Però puoi chiamarmi Mauro? Piacere. Solo che io dovrei andare. Grazie.